A distanza di decenni l'umanità e il coraggio che i fratelli Cervi mostrarono nella resistenza servono ancora da esempio per l'intero paese. Lo ha scritto il presidente del Consiglio Mario Draghi in un messaggio inviato all'Istituto Cervi di Gattatico, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile. Anche se quest'anno siamo costretti a festeggiare a distanza, ha scritto Draghi, è importante continuare a ritrovarci nei valori su cui si basa la nostra Repubblica. La vostra testimonianza di libertà, coesione e fratellanza vive negli ideali che ispirarono la famiglia Cervi e rende giustizia alla loro memoria. Faccio riferimento all'altruismo con cui trasformarono la loro casa in un rifugio per i partigiani e i perseguitati. I fratelli Cervi pagarono con la propria vita per mettere in salvo quelle degli altri, a volte perfetti sconosciuti.